ok stiamo per partire per la trentaquattresima diretta live che teniamo ogni settimana alle ore 16 e 30 qui all'interno del nostro showroom dalle sl tessuti il negozio online più grande del web dove potrai scegliere eventualmente la tua tenta la puoi richiedere confezionata e riceverla direttamente su misura o qualora tu già sai cucire o qualora tu già sai cucire puoi scegliere direttamente il tessuto ovviamente riceve il tessuto e se preferisci puoi anche essere seguita attraverso i nostri esperti su whatsapp per consigli e suggerimenti utili che fanno a caso duro ma in questa particolare puntata quindi in questa trentaquattresima diretta live mi voglio dedicare a quello che oggi diciamo si cela dietro alle tante informazioni che ovviamente scorrono sul web per quanto riguarda quello che il modello dell'onda perfetta qual è il segreto il mistero che si c'era dietro per ottenere un'onda perfetta cosa bisogna avere quindi dal momento in cui decidiamo di diciamo in un certo senso pensare per il nostro ambiente quindi cambiare il modello di arricciatura il modello ad onda per la nostra tenta diciamo è uno dei modelli che ultimamente è sempre più richiesto sempre più clienti ne fanno richiesta per quanto riguarda questa onda è una delle difficoltà che riscontriamo tra chi diciamo ci contatta attraverso i nostri esperti su whatsapp è quello di non riuscire ad ottenere comunque un'onda perfetta per una serie di situazioni che adesso cercheremo di affrontare e poterti dare dei consigli validi affinché anche tu se sai cucire puoi procedere tranquillamente senza alcun dubbio ho già affrontato questa tematica dell'onda quindi ho spiegato quello che il passo 8 il passo 6 quindi le differenze come calcolare via dicendo ma adesso invece mi voglio dedicare a quello che è il mistero che ti garantisce quindi che ti voglio svelare come ottenere quell'onda perfetta e qual è il kit che ti serve qualora tu già hai un binario un binario per indenderci avviciniamoci alla nostra postazione che come vedi alle mie spalle ci troviamo sempre la nostra tenta rullo decorativa anzi con la scusa la apro così facciamo entrare un po' di aria quindi vediamo ecco qua cosa si nasconde dietro sempre la nostra tenta rullo decorativa e qui ci troviamo a catania in piazza duomo con il liotro che è il simbolo dell'elefante il simbolo di noi catanesi noi ci troviamo ovviamente a scordia in provincia di catania bene detto questo adesso voglio in un certo senso attirare quella che è la tua attenzione e concentrarci in particolar modo per quanto riguarda come ottenere un'onda perfetta e qual è il kit che hai bisogno per procedere senza errori e allora immaginiamo ovviamente che già tu comunque hai un binario come questo qua per indenderci che può essere così piatto che può essere quadro ma che in ogni caso deve essere un binario dove scorrono diciamo dalla parte bassa i nostri scivoli vedi ecco qua e questi sono scivoli liberi che generalmente si trovano così a meno che non si fa richieste ci sai dici ho intenzione di fare diciamo l'onda e allora in quel caso alcuni clienti hanno già questo binario qua e con gli scivoli collegati tra di loro generalmente quello che si usa è proprio il passo 8 il passo 8 come ho già spiegato quindi eventualmente potreste andare a vederti la puntata che ho fatto circa sei mesi fa e la distanza che c'è tra uno scivolo e un altro di 8 centimetri passo 8 passo 6 di 6 centimetri quello più utilizzato è il passo 8 quindi concentriamoci sul passo 8 e capiremo come anche tu se hai un binario come questo e hai gli scivoli liberi quindi come ottenere quindi un'onda perfetta e quindi finalmente scoprire questo mistero che si c'è là dietro che cosa occorre per ottenere diciamo tale diciamo tale modello in modo diciamo ineguagliabile soprattutto che non faccia difetto e allora quindi dal momento in cui tu ti trovi questo binario con gli scivoli liberi questi scivoli vanno tolti quindi questi qua non ci servono più cos'è che occorre quindi ora andiamo passo passo in modo che tu magari non ti confondi dal momento in cui sai cucire se non sai cucire e comunque sono delle informazioni che ti possono servire qualora poi tu hai questa tenda con il modello onda dal momento in cui la vai a lavare e perdi i gancetti se i gancetti non sono messi nella giusta posizione avrai delle difficoltà per ovvie ragioni per ottenere quella che è comunque l'onda e allora andiamo per ordine allora quello che è necessario quindi tolti i gancetti quindi gli scivoli quelli liberi abbiamo bisogno ovviamente di quello che è questo cordoncino che come vedi vedi ha dei bottoncini ok a clip e che sono distanti a 8 cm adesso capiremo perché e questo sarebbe il passo 8 per intenderci ok della misura del tuo binario aspetta prima di capire per la misura del tuo binario quindi io intanto ora ti dico gli occorrenti ciò che occorre per ottenere intanto questa particolare onda passo 8 quindi abbiamo bisogno di questo cordoncino che ha diciamo questi bottoncini vedi non ci sono degli scivoli perché questi bottoncini sono predisposti per agganciare successivamente quelli che poi sono gli scivoli a clip ok questo è lo scivolo vedi questo poi viene automaticamente agganciato qua clip e sta ovviamente attaccato qua e si aggancia ovviamente a secondo la misura ora capiremo per la misura del tuo binario e infine abbiamo bisogno di queste qua che sono diciamo le bandierine il triangolo scaleno scaleno perché ovviamente ha tre lati diversi quindi di misura diverse comunque questo triangolino chiamato anche bandiera capiremo anche perché è quello che ti serve all'inizio e alla fine della nostra onda quindi per iniziare in modo perfetto e finire in modo perfetto allora andiamo per ordine ora generalmente quando ci contattano attraverso whatsapp o anche telefonicamente o qui sul luogo una delle cose ovviamente degli errori che lì per lì diciamo non si attenziona tanto è proprio quella della misura del binario per intenderci se hai un binario da due metri proprio perché questo cammina ogni otto centimetri quindi ogni sedici centimetri si crea l'onda il binario deve essere in multipli di sedici quindi sedici 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 e sedici ciò significa che non può essere un binario di due metri dovrà essere due metri e zero quattro quindi è importante questi quattro centimetri perché ci permettono di avere quelli che sono gli scivoli equidistanti tra di loro se non è due metri e zero quattro quindi quindi generalmente si trovano i binari da due metri deve essere tagliata un metro e ottantotto perché un metro e ottantotto perché sarebbe due zero quattro meno sedici fa uno e ottantotto quindi per intenderci che questi sono dei calcoli sì semplici perché ovviamente tutti i giorni crea questi modelli qua magari tu è la prima volta quindi se tu hai un binario da due metri me lo devi ridurre a un metro e ottantotto se no difficilmente otterrai l'onda adesso capiremo perché quindi una volta che tu questo binario l'hai ridotto a un metro e ottantotto da due metri perché è la misura che serve per mettere questo sistema qua quindi compreso le bandierine fatto questo e la stessa cosa vale se uno e ottantotto meno sedici a una e comunque tu devi andare sempre a meno sedici cioè ne devi sempre tu considerare due e due in poche parole cioè ogni due si completa un'onda e allora andiamo per ordine quindi a questo punto abbiamo bisogno che abbiamo detto uno gli gancetti che vanno ad applicarsi nel nostro sistema è la particolare bandierina che non è prevista in tutti i sistemi a onda chiamati anche web sarebbe in inglese ma è la stessa cosa quindi come ti sto dicendo questa bandierina è quella che comunque fa la differenza di tutto diciamo il resto e adesso capiremo il kit quindi è composto di questi tre pezzi fondamentali quindi una volta che noi abbiamo diciamo individuato quella che è la tua misura quindi di questo binario di due metri me lo tagli e me lo accorgi a un metro e ottantotto dico quello di due metri perché è quello più comunemente usato poi nel caso tu hai una misura in particolar modo basta comunicarcelo attraverso whatsapp attraverso i nostri esperti ti indicheremo qual è la misura a te indicata quindi da due metri lo portiamo a un e ottantotto alla fine tu dovrai ottenere vedi questo che stai vedendo qua dove abbiamo la bandierina iniziale per intenderci lo scivolo secondo scivolo terzo scivolo e quarto finiamo con la bandierina quindi in questo caso noi abbiamo quattro scivoli ok quattro scivolo perché la bandierina si intende come uno scivolo che è la parte finale poi abbiamo il secondo scivolo il terzo scivolo che sono gli scivoli giustamente che sono diciamo intermezzo e completiamo con l'ultima che è la bandierina quindi il quarto scivolo non possono essere dispari questa è un'altra situazione per cui magari tanti si ritrovano ad avere un'onda che va fuori fuori in retta perché devono sempre camminare pari quindi o sono quattro comprese le bandierine o sono sei comprese le bandierine per esempio su un metro e 88 abbiamo bisogno di 24 scivoli 24 scivoli divisi su un metro e 88 sono quindi non possono essere 25 24 scivoli compresi quelli che sono le bandierine andiamo a vedere loro al nudo del nostro binario quindi cos'è che succede un attimo che sgancio ovviamente i fermi ecco ecco questo sarebbe quello che tu dovrai ottenere questo è il kit completo quindi bandierina che va a destra gli due scivoli e l'altra bandierina a sinistra quindi questo lo sto facendo in miniatura quindi noi immaginiamo invece per un metro e 88 tu ne dovresti avere 24 di queste quindi ne dovresti avere altri vendi collegati tutti tra di loro e che vanno proprio messi a clip come ti ho fatto vedere inizialmente ok su questo cliptino qua che gli va lo scivolo direttamente a questo punto cosa bisogna fare si inserisce quindi il sistema quindi il kit dell'onda perfetta all'interno del nostro binario ecco qua un attimo così te lo faccio proprio vedere come devi fare perché queste sono diciamo procedure standard semplici quindi abbiamo capito già in questa situazione qua che devono essere gli scivoli pari comprese le bandierine le misure devono camminare quindi per essere pari non vuoi aggiungere più 8 centimetri ma devi aggiungere più 16 centimetri se devi toglierne devi togliere più 16 centimetri quindi da un binario di 2 metri che dovrebbe essere 2 metri e 4 si fa 2 metri e 4 meno 16 1 e 88 ok per intenderci quindi tu devi pensare comunque che un binario di 2 metri deve diventare 1 e 88 non può essere 2 metri perché non corrispondono quelle che sono gli scivoli quindi messe a questo punto le bandierine dove andiamo un attimo vado a bloccare quello che è ecco qua perfetto ci sono i blocchi fermi quindi questo non li considerate bene allora questo qua sarebbe diciamo la parte vedi iniziale ok la bandiera quindi la parte più lunga è quella che sta dietro verso il muro la parte più corta è quella che sta davanti a questo punto una volta diciamo quindi individuata quella che è la tua misura ti occorre ovviamente il kit completo della tua misura e non ci rimane a questo punto che andare a inserire il nostro arricciatente l'arricciatente di cui abbiamo bisogno che non è un arricciatente perché non vengono tirati i fili ma viene chiamato proprio fascia vedi a tasca continua questo diciamo è comunemente usato questo è uno tra i più conosciuti quindi è nato anche quando ancora il sistema web non era diciamo abbastanza diciamo conosciuto adesso diciamo è abbastanza conosciuto quindi questo diciamo è la fascia che dobbiamo utilizzare a tasca continua e con queste bandierine che non sono previste nel 99% dei casi poi che ovviamente prevedono queste bandierine qua che è la parte quella fondamentale perché la bandierina come ho già spiegato ti permette di far partire l'onda in maniera retta pulita e ordinata andiamo a vedere come accade questo quindi come tu stai potendo notare nella nostra fascia a tasca continua dobbiamo aggiungere quelli che sono i primi due ganci uno che parte dal punto zero quindi qui tu immagini c'è l'orrino con la tenta cucita e l'altro a distanza di sette tasche quindi sarebbero sette centimetri perché ogni tasca ogni alloggio diciamo è largo un centimetro viene messo il secondo gancio perché questi due vanno ad iniziare nella nostra bandierina quindi mettiamo ecco qua vedi il primo va bene il secondo ok ecco qua vedi e così abbiamo ottenuto quello che è l'inizio dell'onda che è la cosa fondamentale a questo punto dal secondo gancio quindi della nostra bandierina dobbiamo contare 16 tasche 16 come ho già spiegato perché sarebbe il doppio di 8 perché questo ci permette di avere l'onda davanti e l'onda dietro quindi di completare l'effetto onda quindi andiamo quindi a mettere il secondo gancio a 16 centimetri dalla bandierina l'altro gancio a 16 centimetri dallo scivolo per poi completare quindi tu immagini che hai messo ovviamente tutte a 16 a 16 a 16 per poi completare sempre con gli ultimi due come l'inizio quindi che devono essere distanti a 7 centimetri ok quindi a questo punto sempre vai a completare una volta che li hai inseriti tutti sempre 1 e 2 ecco qua e così abbiamo ottenuto vedi ti faccio notare ok perfetto poi facciamo anche la prova del nuovo per dimostrarti come diciamo allora questa ecco te la faccio vedere così come se la vediamo di sotto vedi questa è l'onda perfetta come noti vedi qua ti parte il retto ti fa l'onda la prima la seconda ok ti inizia la seconda e ti completa ecco per ottenere questo gli scivoli compresi le banderine devono essere pari perché qualora sono dispari e ora ti faccio vedere proprio la prova del 9 quindi se noi abbiamo a questo punto gli scivoli dispari non otterremo più questa diciamo ondatura perfetta per il semplice fatto che essendo dispari ne manca mezza onda che va a uscire ok quindi proprio come stai notando vedi per ottenere questa onda il nostro binario di 2 metri deve essere ridotto a un metro e 88 ripeto importante la misura di un metro e 88 non può essere un 89 non può essere un 90 perché quei due centimetri ci sballerebbero in ogni caso quella che è l'andatura dell'onda sul nostro binario quindi un metro e 88 se hai un binario da due metri mi verifico su questo cioè mi concentro su questa misura qua perché è quella tra le più diciamo indicate però ripeto nel tuo caso se hai una misura in particolar modo basta che ci contatti attraverso whatsapp dal nostro sito quindi e lì possiamo darti tutte le spiegazioni diciamo indicate al caso tuo comunque ritornando sul nostro discorso come ti stavo facendo vedere questo è per ottenere quindi il particolare segreto di questa onda perfetta è che devono essere pari quelli che sono gli scivoli compresi le bandierine laterali la bandierina un accessorio che il 99% nelle onde non viene mai indicato non viene mai consigliato non viene mai diciamo proposto proprio perché non tutte le aziende che creano questo effetto onda la prevedono ok quindi la bandierina fondamentale abbiamo detto che sono 4 e la misura del binario non può essere 2 metri ma bensì 188 o 2 metri 0,4 perché 188 più 16 16 sarebbero la distanza dei due scivoli 8 più 8 16 ok perché devono camminare a 2 a 2 quindi disponi non devono essere ora facciamo la prova del 9 e su questo binario come tu stai notando vedi che manca questo pezzettino qua perché in realtà facciamo quindi che questo fosse 2 metri io lo devo tagliare qua 1,88 questo è in più questo è il motivo se invece me lo lascio quindi e aggiungo uno scivoli in più come ti voglio far vedere questa sarebbe diciamo la classica prova del 9 per dimostrarti come l'onda pur avendo le bandierine pur avendo il sistema passo 8 ti viene comunque non ordinata quindi disordinata andiamo un attimo ora a spostare e aggiungere un altro scivolo e così ti dimostro con la prova del 9 che avendo quelli che sono gli scivoli dispari alla fine non otteniamo la stessa onda che ti ho appena fatto vedere quindi questo per farti dire quanto è importante la misura del binario quindi se la misura del binario non è perfetta quindi in questo caso il binario da 2 metri se non è tagliata a 1,88 avrai problemi nell'ottenere l'onda perfetta ok un attimo che io sto aggiungendo è caduto il binario ora lo prendiamo sto aggiungendo ed è col clip lo scivolo quello disparo ecco qua ora io a questo punto qui non ho fatto altro che aggiungere vedete abbiamo ora 3 scivoli più 2 bandierini quindi siamo a 5 scivoli che tu la bandierina la devi sempre considerare come uno scivolo perché è la parte finale ok che ci permette di chiudere e di iniziare quindi la parte iniziale o finale quindi di chiudere e di iniziare un'onda adesso lo rimettiamo nel nostro aspetta un attimo che tolgo anche questa arricciatura tolgo pure la fascia così vediamo quindi abbiamo visto come l'onda perfetta si ottiene avendo quelli che sono gli scivoli comprese le bandierine pari ora io cosa ho fatto mi ho aggiunto uno per farti vedere come l'onda non corrisponde proprio perché quello disparo non ci permette ecco qua è qui dove diciamo che la maggior parte si confonde proprio su questa situazione qua quindi proprio per diciamo le esperienze e le richieste che abbiamo avuto in questi ultimi mesi per quanto riguarda questo sistema qua ho deciso di fare questa diretta proprio per chiarire questi punti strategici e quindi concentrarci su quello che è esclusivamente il sistema wave quindi onda passo 8 il passo 6 capiamoci non prevede la bandierina perché è più corto e quindi non permetterebbe lo stesso effetto ma ripeto quello più usato è il passo 8 quindi passo 6 è tutto un altro discorso non confondiamoci però concentriamoci su questo se eventualmente hai il passo 6 ne possiamo parlare non è questo il problema allora ecco qua benissimo quindi come ti voglio far notare noi ora abbiamo messo uno che è lo scivolo uno è il primo scivolo due tre quattro e cinque quindi sono dispari e come ti voglio far notare rispetto prima copre tutto l'intero binario quindi noi immaginiamo che abbiamo questo binario di due metri e anziché avere ventiquattro scivoli abbiamo venticinque scivoli quindi quel scivolo che sarebbe diciamo quello disparo ci ci fa ottenere un'onda non allineata e quindi uno pensa dove ho sbagliato ecco qua e allora sì ok perfetto ecco qua questo qua diciamo è quello che ho preparato per quanto fatti vedere la differenza e quindi sempre iniziamo dal primo dalla parte interna perché la banderina è la parte più lunga è la parte dietro quella che sta nel muro ok perfetto sempre a 16 distanza il discorso è sempre uguale come quello che ho appena spiegato ok solo che ho aggiunto uno scivolo in più per farti vedere come l'onda non corrisponde pur avendo le banderine perché sono dispari quindi devono essere pari questo è un altro segreto che poi ancora hanno ecco qua allora intanto come vediamo copre tutto il nostro binario ok ma guarda vedi che non si ottiene l'onda vedi che qua va a sballare e tu dici ok allora abbassa beh se io l'abbasso vedi si crea l'onda come ti avevo fatto vedere io prima che qua faniva la banderina questa che è in più vedi che non fa a completarsi perché ha bisogno di un altro giro quindi di altri centimetri di binario quindi tu immagini se è un binario di 2 metri dovrà essere 2 metri 0,4 per avere 26 scivoli quindi non più 24 quindi se il tuo binario è di 2 metri e non è di 2,04 riducilo a 1,88 questa è diciamo la cosa fondamentale la misura perché se no otterrai quest'onda vedi che non è corretta pur avendo le banderine questo è quello che ti permette quindi come abbiamo capito dobbiamo avere quelli che sono gli scivoli compresi le banderine pari la misura del binario deve essere o 1,88 o 2 metri e 0,4 e se ti devi spostare o ridurre deve essere ogni 16 per quanto riguarda il passo da 8 e che quindi gli scivoli abbiamo detto che devono essere pari e in più quella che non è prevista dalla maggior parte dei passi diciamo delle aziende che abbiamo qui che propongono il sistema web la banderina la banderina ti permette di iniziare e finire con un'onda retta pulita e ordinata ecco questa puntata l'ho voluta dedicare a questa situazione proprio perché dalle vostre richieste tanti si confondevano in questa situazione e quando ovviamente poi venivano diciamo inviavamo inviavamo il nostro consiglio dicendogli guarda il signore dico o il suo binario è 146 o è 152 cioè non può essere o è 140 o è 156 non può essere per ovvia ragione per come ti ho spiegato in questa diretta qua avere un binario di 150 perché su un binario di un metro e cinquanta nella stessa maniera non ti funziona l'onda perché diventano dispari gli scivoli quindi il binario deve essere 140 per l'intento se abbiamo un'apertura più piccola o 156 quindi 140 più 16 ok 156 più 16 e diventiamo la 100 comune 172 172 più 16 188 188 più 16 204 204 più 16 220 queste sono misure importanti che ti permettono di ottenere un'onda perfetta avendo quella che sono diciamo il kit completo dalla bandierina e gli scivoli devono essere pari collegati tra di loro e il colvingino deve essere così come questo che stai vedendo qua con lo scivolo a clip ecco qua che va ad agganciarsi vedi e poi lo puoi sganciare ovviamente e aggiungere o diminuire ogni due quindi credo di aver dato ecco delle informazioni che ti possono aiutare in qualche modo se qualcosa hai in dubbio o vuoi approfondire nel tuo caso specifico a seconda alla misura che ti ritrovi puoi contattarci come già sai se ci segui da demo ma se è la prima volta che ci segui te lo faccio vedere attraverso il tuo smartphone vedi ti colleghi tranquillamente un attimo tolgo sto contro luce che ecco qua vedi vabbè ecco qua questo contro luce come stai notando ecco qua vedi ci sono i segnali di whatsapp dove dal nostro sito attraverso il tuo smartphone ci clicchi ci contatti chiedi informazione per quanto riguarda il binario che ti trovi la misura quando deve essere ridotta o aumentata nel caso in cui si può aumentare e qual è il kit che ti può servire qualora ovviamente vuoi ottenere un'onda come quella che ti ho fatto vedere in questa particolare puntata e quindi come ti ho già detto di non avermi dimenticato nulla non mi rimane che augurarti un buon proseguimento dalla SL Tessuti ci troviamo qui a Scordie in provincia di Catania in piazza Piersanti Mattarella 20 credo ecco di aver completato questa 34esima puntata e aver così svelato il mistero dell'onda perfetta se hai bisogno non ti rimane che contattarci come ti ho già detto più volte in questa diretta attraverso whatsapp per noi è un piacere poterti dare il consiglio giusto alla giusta distanza e come già conoscerai il nostro slogan scegli la tenda più bella che vuoi su sltessuti punto it puoi da salvatore maria paolo caluso è tutto un caro saluto e ci vediamo alla prossima diretta live ciao ciao ciao